Davide Larda è un giovane economista di Torino con la passione per l'innovazione a 360 gradi e l'ideatore insieme a Michele Belloni di Pension Area, una start-up dedicata alla previdenza complementare in Italia. Il progetto, nato nel 2009 e online da maggio, il portale è disponibile all'indirizzo www.pensionaria.com consente gratuitamente all'utente di comprare la grande varietà di prodotti pensionistici esistenti in base ai costi e ai rendimenti, ma anche di accedere a tutta la documentazione contrattuale per scegliere la soluzione più adatta. L'obiettivo della giovanissima start-up è quello di diventare un riferimento a livello europeo. Si rivolge chiaramente in Italia a tutti i privati che hanno delle domande in questo settore che sul portale possono comparare tutta la previdenza complementare italiana in base ai costi e ai rendimenti. Possono accedere alla documentazione contrattuale di ogni prodotto e anche leggere delle schede che riassumono i singoli prodotti. Oltre a questo possono richiedere una consulenza e questa consulenza viene ospitata dal portale e ottiene risposte da parte dei professionisti che operano su pensionaria e sono i professionisti del settore. È un modello di business win-win perché il privato ottiene una risposta gratis, il professionista risponde e ottiene chiaramente una visibilità. Un modello di business come quello inventato da Lerd e dal suo team è stato reso possibile solo dalle nuove tecnologie, ma per crescere ora ha bisogno di fondi ed è per questo che Pensionaria è pronta a lanciarsi in una campagna di crowdfunding. Grazie per la visione!